Assurde come solo le cose italiane sanno esserlo. Nel corso del 2016 le comunità di recupero calabresi dovranno sfrattare 315 cittadini che avrebbero invece bisogno dei loro servizi. Solite necessità di cassa, secondo la Regione Calabria, che non ha ancora concesso alcun tavolo di trattativa al CREA, l'organismo che raggruppa 17 associazioni e cooperative di tutte le 5 province dove confluiscono anche da fuori regione soggetti con dipendenze patologiche, tossicodipendenza, ludopatia e quant'altro. Con i tagli progressivi che ci sono stati in questi ultimi anni da quando la Regione Calabria è in piano di rientro praticamente c'è stato un susseguirsi di tagli sui posti contrattualizzati e quindi siamo arrivati al punto che quest'anno da un fabbisogno stabilito dalla stessa Regione di 490 posti letto ci ritroviamo ad averne contrattualizzati 175. Quindi significa che possiamo dare risposta soltanto a 175 persone su un fabbisogno di 490. Un risparmio illusorio, oltre che inflitto al segmento più debole del sociale. Il taglio di risorse, come è stato documentato, andrebbe infatti a produrre altre e maggiori spese nella sanità in termini di ricoveri impropri e nei costi sociali degli inevitabili atti delinquenziali in cui le persone non più seguite andrebbero a ricadere. Un tossicodipendente in carcere costa ben 250 euro al giorno contro i 73,99 al giorno in comunità. Lo sforzo secondo noi è minimo perché i budget per le comunità terapeutiche praticamente coprono appena lo 0,17% del bilancio sanitario regionale quindi è proprio una percentuale illusoria tenendo presente che a livello nazionale la percentuale di tutte le altre Regioni la media è sull'1% quindi stiamo parlando anche lì di cifre illusorie quindi basterebbe veramente poco per dare delle risposte e si risparmenebbero molti più soldi perché queste persone che rimangono fuori comunque avranno dei ricoveri impropri comunque delinqueranno comunque ci sarà tutta una serie di conseguenze che comunque a livello semplicemente di costi comunque peseranno. Come comunità se dovesse verificarsi questa malaugurata ipotesi come provvederete a selezionare chi dentro e chi fuori? Questo ce lo dovranno dire loro perché noi non possiamo discriminare non possiamo fare discriminazioni tenendo presente che c'è anche la questione di chi usufruisce delle pene alternative al carcere quindi una persona che ci viene mandata in comunità dal giudice è che noi possiamo dire a un certo punto no, non puoi più stare in comunità perché abbiamo finito il budget quindi anche queste cose molto semplici anche da risolvere e da comprendere però diventano in questo momento difficili. Nel corso della conferenza stampa indetta Catanzaro il direttivo del CREA il coordinamento regionale enti e ausiliari ha denunciato la messa in discussione dell'assistenza solidale che cura e recupera le persone ad una vita normale senza mai speculazioni su numeri e sentimenti come invece da tempo viene fatto nei loro confronti. L'appello che lanciamo è il primo lo lanciamo ai commissari perché sono loro che decidono i budget e quindi gli chiediamo veramente con un piccolo sforzo riuscirebbero a dare delle risposte a molte più persone e quindi per prima loro e poi anche alla politica perché vorremmo che al di là se c'entrano o meno nei tagli di budget perché comunque la sanità è commissariata che comunque si dessero da fare per fare in modo che le risposte ai propri cittadini ai cittadini calabresi ci sia. Andare a casa anche i colleghi dire a dei colleghi hanno comprato meno posti